Che paura Questa è l'entrata I guardiani, i portieri, gli attaccanti Guardate che bella hall 48 Guardate no 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 ah no bad no bad very good what you think ok my god but this one this one you please questo è il bagno la doccia vediamo la vista che c'è la la